Sono Nikos Lipchenko, sono uno studente, ho frequentato il corso del dottor De Martini. Innanzitutto è un corso in cui ti dà l'opportunità di conoscere, di interagire con persone molto spiritose, intelligenti, che ti possono dare un qualcosa anche a livello interiore per te. Poi mi ha dato l'opportunità di scoprire i miei interessi, i valori, che erano interiormente, ma erano difficili da scoprire e da applicare. Il corso l'ho fatto, innanzitutto il dottor Dwight mi ha consigliato di frequentare il corso del dottor De Martini, perché gli sembrava un modo per scoprire, per verificare ciò che avevo dentro di me, le mie aspettative, ciò che volevo fare in futuro, per capire quello che volevo fare, i valori. In più una relazione poi dipende, io che sono un ragazzo, ti insegna a relazionarti con l'altra gente, a parlare, a esprimerti meglio con gli amici, con i familiari, con gli insegnanti, anche se sei in ambito lavorativo. Insomma mi ha dato una specie di bussola per riuscire ad applicare questi sentimenti, questi obiettivi che uno si pone davanti alla sua vita per riuscire a realizzare il suo sogno, tra virgolette, nel migliore dei modi. Spero che questa intervista serva anche per dare un incentivo agli altri ragazzi, anzi sarebbe meglio anche se si potesse fare questo corso all'interno delle scuole, così ci sarebbe un livello maggiore di partecipazione per i ragazzi e anche per gli insegnanti. Il risultato immediato mi ha aperto la mente, sono riuscito a elevarmi a uno stadio superiore di serenità, appunto con la relazione, con i miei genitori, con gli amici, proprio ti ha dato quel più per capire ciò che volevi.